ciao amici di instagram ragazzi salve a tutti purtroppo è successo una cosa con il merchandising ma comunque uscirà alle 9 perché stavo in live su twitch alcuni di loro hanno spoilerato il mio merchandising vi chiedo scusa a tutti quanti purtroppo la gente non sta bene dopo questa cosa che hanno spoilerato hanno pure provato a creare il sito del merchandising gente che non sta bene purtroppo io però vi prometto che per le 9 ore 9 ragazzi merchandising nuovo troppo sta gente non sta bene non sta bene con la testa vi chiedo tutti quanti se volete aggiornamenti vi aspetto il live su twitch troppo va giù gente che non sta bene anche a halloween deve rovinare tutto deve rovinare un progetto che sto facendo da un po di mesi il mio nuovo merchandising e me lo devo rovinare bastava aspettare tre ore tu che mi stai guardando sto video bastava aspettare tre ore era tutto risolto cioè uscivo il merchandising alle 9 invece dovuto spoilerare e niente già girano foto su telegram su internet del mio merchandising vabbè vai giù se volete aggiornamenti di più vi aspetto su twitch un bacione spero che mi seguirete sempre vi voglio bene ciao amici di strada grazie 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 grazie